Oggi Torres in campo per l'anticipo della quinta giornata allo Stadio Francioni contro il Latina alle ore 15. I Rossoblu arrivano dalla sconfitta settimanale nel recupero della terza giornata contro la Noccellina. La squadra di Mister Gardini per evitare spostamenti è rimasta fuori tutta la settimana, ma oggi dovranno giocarsi il tutto per tutto contro i Laziali ed evitare la quinta sconfitta consecutiva. Riposo forzato causa Covid invece per i Bianco Celesti, la gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D del Gironi G. Fra Visa Artena e Latte Dolce, in programma al Comunale di Artena, domenica 25 ottobre alle ore 14.30, è stato rinviato. La Visa Artena ha comunicato in settimana al club sassarese che è un tesserato risultato positivo al Covid-19. La società ha immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo in vigore e ha informato la Lega Nazionale di Lettanti e si è così deciso per il rinvio del match.